vuoi che andiamo nelle camere mortuari eh? si abbiamo fatto un sacco di strada vero? si non potete capire mamma mia ho ripreso quella finestra e sembrava che è passato qualcuno nella finestra lassù la prima che si affaccia alla testa bella di qua non si entra facciamo il giro e cerchiamo di capire come entrare però questa è la casa no non è la casa non so mamma mia guarda sul posto vedi da qua potresti uscire e sei dentro facciamo? e sei dentro se no facciamo un ingresso più semplice facciamo una cosa come è? facciamo un giro vista vicino adesso e dov'è? qua chiudiamo un po' c'è però ho visto qua dietro nella casa sul recinto aperto ah ok è quello dove ho visto allora io prima il video che c'è un ingresso con una porta proprio tutta sbancata ho visto la finestra prendere il K2 adamo fa pipì e niente primuline primuline vuoi entrare di qui? si si entriamo di qua siamo bene hai visto? cosa? un coso legato grazie ma non c'è nessuno dentro no vai vai c'è nessuno dentro vero? qua è meno ripida di prima ma è un intero palazzo questo credo che si entri qui ecco no no è stato un portacolo dentro la grado di diffondamenta questo posto? sì penso di sì c'è qualcuno? non so perché ma c'è qualcosa che non mi piace a me cerca di far meno rumore con la roba a terra ti prego qua c'è una scarpa qua si è illuminato c'è qualcuno qui puoi portarlo fino al rosso sei un'entità buona se sapete che macchinario è aiutateci come l'altra volta curiosità mia personale scrivetecelo nei commenti per me è un macchinario tessile anche se è pieno di plastica faccio una vecchia macchina da cucire tutta distrutta wow che meraviglia sì adamo ho trovato una cosa vieni non lo so però è un po macabro queste cose sono le cose da mettere su le cose non c'è niente che spiegazione sì vabbè capito qua c'è una scala che va giù eh occhio al tombino ma questa è la centrale ci siamo appena accorti di questa cosa qua dov'è il mio titino? camera mortuaria madonna ma sembrano stalle per i cavalli permesso su non andiamo più se vuoi puntati c'è qualcuno? c'è qualcuno qui con noi? puoi illuminare lo strumento fino al rosso cioè io aereo si si telefonino in aereo quindi ma c'è anche un po' d'aria vuoi che andiamo nelle camere mortuari? sì ci guidi nelle camere mortuari? ti va? andiamo sotto? andiamo io proprio no ti vuole ti vuole non dice niente non mi vuole nessuno povero Adam povero Adam non mi vuole nessuno tu sei un pericolo per fare un regalo alla G la voglio portare nella camera mortuaria piano terra Adam se non impara a tirar sui piedi gliel'italio aspetta io vado di qua oh una macchina da scrivere che cos'è questa? sembrano quelle scarpe che utilizzano per utilizzano per la correzione dei piedi che strano sto quadro che strano sto quadro cosa ci passa per la costa qua dentro? non mi piace riprendi oh e questo che cosa serviva? per fare le lastre oh c'è qua facevano le lastre cos'è che fanno qua? questo qua cos'è che ci fanno qua? questo qua ci facciamo le lastre ma guarda lì no ci mette persone in piedi guarda il quadro di prima per terra oh che roba inquietante e un cane nel bastone non so se si è bruttissimo sembra tipo la sapramonte io credo qua ci sono un rifugio di roba no un'altra stanza vuota qua ci sono i bagni c'erano i bagni e qua si esce fuori che spavento si stanno litigando gli uccelli che cos'è? è una manina una manina sembra tipo un pezzo dell'altro di una statua di una statua si lo so ce lo dite tutti di portarci i guanti ma noi ce lo dimentichiamo sempre sempre è una statua rotta si adesso ritorniamoci e cerchiamo le camere mortuaglie dove sono le camere mortuaglie? dove sta tu? che cazzo che legna che è arrivata da qua com'è? forno ammura sì dipartimento di prevenzione servizio veterinario per gli animali ah era un veterinario per gli animali ma stiamo un attimo qua magari c'è qualcun animale eh sì qua si prendevano cura degli animaletti c'è qualcuno? siamo praticamente dentro una sala ah questa è la sala delle operazioni mediche per guardia guarda guardia medica sì rimangono qua qua curavano i bimbi gli animaletti come vai? come vai? è tutto murato insomma qua questo è qualche farmaco poi prima di capire che cosa serve non sono medico però qua ci curavano gli animali era un laboratorio veterinario le anime degli animali animali evoluti come il gatto il cane il cavallo faccio un esempio fanno più o meno il nostro stesso stesso medesimo percorso però non hanno un processo di reincarnazione lungo come il nostro sì se loro i bimbi possono interagire con esattamente come noi ma se io tipo li chiamo perché tipo io sono abbassato l'altro ho visto ho visto ma loro reagiscono come se fossero alcuni animali dipende un po' come è successo a noi cos'è un po' come è successo a noi non toccare la roba dentro qua c'è scritto che è pieno di amione cioè come è successo a noi dice non a noi personalmente ma come succede agli esseri umani se viene fatta una morte violenta piuttosto che magari sono morti in un luogo lontano da casa quindi non erano sereni possono restare nel luogo ma capita molto di raro ma reagiscono come anime ma capita molto di raro perché gli animali si reincarnano velocemente rispetto a noi quindi capace che dopo tre mesi quattro mesi si reincarnano già hai capito cerchiamo di attraversare ah perché qua si arriva dal prato vedi bellissimo questo pezzo da film è crollato tutto sembrano delle prigioni non venite in questi posti non venite in questi posti perché è pericolosissimo per cui ascoltateci e non venite in questi posti qua è tutto crollato quindi questo credo che sia la parte più pericolosa ma questa è una chiesa eh sì questa è una chiesa oh penso della chiesa cioè ma questa è una chiesa oh c'è è qua ma qua c'è la chiesa abbiamo trovato la chiesa ragazzi oh santo dio guarda che roba sembrano dei vieni che vengono che stanno scendendo sì con degli specchi vedi è colata e poi dopo scavata hai visto è stato fatto qualcosa qui in questo cerchio una roba di freddo cos'è 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 vieni 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 Grazie a tutti.